da voi cosa ci sono tanti francesi e tedeschi vero e hollandesi e tanti milanesi anche pausa eh si anche io io devo fare pausa saliamo su ragazzi si prendiamo il palazzo prendiamo il palazzo lo prendiamo tutto Icaro in maniera abusiva lo prendiamo abusivamente una squadra nemica è sulle tue tracce vaffanculo sto scendendo bella questa pistolina questa è fighissima no non la raffica tre colpi per volta è fortissima mi sono innamorato adesso come l'alzo un po' me la mettono io oh ma subito manito occhio ah vedi se sta pallina eh si quello che mi cerca ok c'è 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 un altro eh dove? sempre su una sotto ho fatto oh qui 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 ha girato ragazzi raggruppiamo sono da solo sono tutti sul tetto stiamo arrivando sì sì sono sotto qua da me sono sotto qua da me arriviamo arriviamo danniamo giù da lui sono tre sono tre bench sono tre non vieni tre uno l'ho fatto e gli altri tre mi hanno fatto no mi sono caduto ragazzi sono caduto giù eh cambera cambera che sono tre ci sono tre dove hanno fatto a me ma come torno su è un problema poi io cercavo di tornare se non sono riusciti sono sotto sono qua vieni vieni ragazzi ho lanciato il lancio ecco perché si sotto la casa è scappato sto merda chi è che è morto agosto chi è che ti ha fatto a me risolta bombarda bombarda dobbiamo andarcene fuori dalle palle però adesso da qua ci andiamo verso la set che dice a casa se non c'è ma stai non sono caduto non è una cosa se non è che raggiungo in sempre cazzo andate prendiamoli io sono morto tanto si sono no ma sono un coglione siete sul tetto dove sono le cose rosse che si ok quindi quella volta c'è l'odd andiamo per tanti solo con la cosa ebbè nemmeno oggi come di cosa cos'è il rifornimento uap e lui avv normale ah no è quello che ti fa vedere le casse scusami è forte ma sul tetto avete una cassa moni aria e si no io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho oddio sul tetto oddio la metto qua la casa moni venite qui lascio delle munizioni cecchino otteniamo uno qua un occhio ecco mi hanno fatto forco il luce fatto con lo sopra il tetto e sopra ce l'avete sopra di voi ragazzi sono tutti sopra le sono fatto lo fatto ce n'è un altro eh e saliamo allora in un altro qua c'è la ziplina no era il socio dobbiamo salire la pietra aspetta fermi un attimo soltanto io sto scendendo così ve lo pingo non so niente vedo quanti ce n'è quanti sono tre li ho fatti tutti li ho fatti tutti andiamo al tetto sì c'è la ziplina indietro se volete dal gas prendiamo il cavo venite su raga sì sì non sapevo che ci fa la ziplina qua vediamo cosa è il drone incursore è fighissimo andiamo all'altro palazzo sì dai prendiamo il cavo vieni costo c'è gente eh c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente che mi ha fregato la kill che mi ha fregato la kill è uno più veloce di te tu ma affricata la kill eh per bai chiodo c'è un altro di fronte eh c'è pure c'è chi non è da vostra c'è chi non è da destra no da sud andiamocelo in zef andiamocelo in zef che da qua la possiamo prendere raga è una buona idea ping però dove vai sempre il cro qua ok prendiamo un po' di altezza qua ah c'è gente qua eh raga ah c'è gente ti senti? saliamo saliamo sulle scale esterne no dalla zipline magari non vengono perché c'è la prossima t-chat attiva beh infatti dovete aspettare le scale una terra una terra io non l'ho fatto uno sul tetto sta scendendo no ma l'ho fatto raga dai raga venite su cazzo 15 seconde 15 15 non è 30 minchia ghost non devi dire dove andiamo però ah eh eh perché ci sentono ghost aspettaci la h non salete raga non salete sono tra eh cazzo c'ho le armi lì ehi da dove ogni cosa facciamo no ma dai che coglioni dove devo andare ragazzi io arkas testa dove sei morti eh qui sì qui siamo vado qui arkas io andrei lì ecco porco dio porco mi hanno cecchinato mentre non in aria oh porco cecchino sto facendo faville però eh se qualcuno riesce ad arrestarmi con un da in qualche mercato bello parca scelesi sì ma dobbiamo andare in safe eh madonna ce li tutti so guarda là guarda quanti giuri lo puoi fare da lì quello eh anche con le scale davanti eh no no c'ho provato c'ho provato c'ho provato ah ok ok raga cominciamo a avanzare no lascigli andare lascigli andare via no da dove vieni dentro vieni 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 v l'esercito la vita non me non mi fosce continui per me fosce abbandono la partita e non me la fa abbandonare e rifacciamo la lobby allora ci sono bench si non mi fosce è appena entra ok ghost è entrato no ma io non ho capito ma io non ho capito ci sto dicendo ma cazzo ma non viene più a giocare ragazzi cerchiamo il quarto chi è che non gioca più? ah cazzo ricaro no ci sono e chi è un altro ragazzo? ma benji come cazzo faccio a farmi passare queste insaccature al dito? minchia fra un po' me lo stacco mi ha rotto il cazzo ma come hai fatto già? ma stavano giocando a pallone no uno mi è rivenuto addosso dritto per dritto e l'ho insaccato sicuro ma seguo secondo me ma sei andato a poter vedere? no ciao 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 eh devi farti vedere devi farti vedere e far valutare la situazione secondo me non è insaccato perchè insaccare un dito è praticamente impossibile e cos'è? rotto non è rotto perchè lo muovo così tutto insaccare non puoi insaccare un dito l'unica cosa che puoi è quando si stringono falange e falangetta vai a oppressare un po' la cartilagine che c'è dentro e fa male provo a andare a farti vedere ma non è che sei convinto che il dito mi è rotto il nervo eh sniper lo sento perchè quando quando ballo è osseo che vinta se io dopo che vinta se io dopo io devo pagarmi il ticket perchè ho un codice bianco non so perché adesso sei sgonfiato così del tutto non è più gonfio però continua a farmi male si era rotto no rotto andai all'ospedale fidati si no lo so perché io me lo sono già rotto lo stesso devi portare un po di pazienza metti un po di ghiaccio prendi un po di antinfiammatori antinfiammatorio dice il brufan si ne prendi non tanto due giorni perché comunque sia la conclusione alla botta c'è stata stata essi ho visto l'esterno socio poi non sono un medico ricordate ma e tu che cazzo vuoi capire cosa fa io non ho capito cosa fare io formo i medici e come fai ma formi i medici in che senso sotto che tutto che aspetto dipende sono tutti gli aspetti ci sono varie cose della medicina ricordati che i ricercatori no certo ricercatori scienziati in cosa ti sei laureato già io sono scienziato in cosa adesso ha fatto la specialistica in scienza dell'alimentazione poi chimica biochimica che figlio cazzo su un pacco di soldi niente non sarebbe solo quello eh no un botto di timo titan sei con noi provino ci sono due sotto raga non è un c'ho due sotto è sopra il set 1 ha covacciato il bastardo c'è ah l'ho visto l'ho visto l'ho visto qua comunque non so perchè mi devono sempre sultare su sto gioco vai alla madonna pannaia alla puttana era e sono da tutta la parte merda non l'ho visto torna marcando come l'ho craccato uno uno anche io l'ho messo a terra c'è successo i rinforzi sono in arrivo siete sul tetto raga e poi quando saliva aspetta arrivo allo ecco cazzo appena sotto cazzo ah dio ragazzi sono stati portati eh uno l'ho fatto perchè mi devono sempre sultare quando gioco non so ti devono sempre sultare ti devono sempre sultare ma si ma raga raga se me li pingate al ping rossi ah minchè sono col pombo sono giusto un pelo lontano per me dobbiamo andare via da qui si poi riusciamo ancora qui dove siamo? leggendo pure là contatto confermato leggendo anche da sinistra ragazzi perchè mi hanno si ma dobbiamo muoverci raga manca poco per il loide dai andiamo a pushare sennò no e andiamo quelli da quelli lì eccoli arrivano dei nemici attenzione in alto la squadra ha raggiunto la zona sicura una terra una che una one shot in chiama bastardo ma finiti proiettili un pozzo di campo è di fronte via c'è quello che rompi cogliana all'altra parte e non è morto ragazzi è caccatissimo quello là dentro percadio c'è un altro? merda ghost girati terra 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 raga a me non so io non so come sono morto ve lo giuro non lo so slide sono lontani prova io guardo ben dietro ben dietro di me eh eh col pompa di aca nooo con le mani no io io col pompa oh au oh 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 ragazzi che maleva questo eh me mi fa fatto che incopri maledetta oh oh c'è gente accade me eh titan a terra 1 oh oh mio dio a terra 2 due coglioni ciao forza ci caddo stavo sto arrivando sto arrivando titan guarda l'ho ucciso questo eh provare ad andare a lodi lo possiamo fare? ah no ancora no si si possiamo costa 15 tieni ci conviene farlo allora tieni vai fanno lasciatemi qua ragazzi lancio di equipaggiamento alleato sempre a posa gusto col pompo però ehm ok adesso si va pushato se no mi annoio lo sapete si lancia da verrà si che oh eccoli fraccatissimo minchia titan 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 si si fraccato 1 con bombardamento un aggiornamento decisione confermata sappiamo dove sono gli altri perdete terreno muovetevi ritorno sapere di dire mi raccomando arriva ossidione parquettino bange siamo circondati bange si è circondato c'è 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 ca c'è d d O un altro E' sdraiato per terra quello dentro Ce n'è uno sdraiato dentro per terra A terra a terra Bravi coglioni Bravi Certo Ok all'Odi uno E ce n'è anche uno di dentro Andiamo a faccio quello all'Odi Aspettate un attimo raga io ne ho piastra Non ho munizioni Avete munizioni A terra un all'Odi No 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 muli non ne ho Raga qualcuno riesce ad evitare sulle piastre Ragazzi all'Odi per favore bisogna una mano Etate 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 etato con l'all'Odi Puttasso di un po' di due allozi Bisogna che c'è frugge il chino da questo lato eh Attendo attendo che ci sono due E' qui qua Pingalo A terra Povere Inche l'abbiamo violentato sto qua Sì Io raga ho visto poco e niente perché minchia dire non ci vedo Sì C'è ancora una munizione Occhio Uno da occhio Oh dove eravamo prima ragazzi Sì Braccato Due team ci sono occhio Dove c'è la cru La cru gialla Dove c'è la cru gialla Dove c'è la cru gialla benji Sì Sì Cattinissimo Occhio ne avete un altro lì occhio andiamo, non stai tanto da cazzo, sai, là c'era gente qua da me si si si, lo so qua sopra ah no, è dietro è pieno dietro, abbiamo due team ecco, eccolo là, uno a terra, uno qua attacco in giallo allora ma come fai qua, qua ho afferrata uno dove occhio, occhio, occhio sopra, craccate siamo in un punto di merda però qua siamo bassissimi ma dov'è questo? è là, mi sa l'ho visto, è sopra il tetto occhio a terra puttana, sono un cecchino a questo cazzo di E di E c'è un altro eh, quello lo resta, ma mi sa si resta quello li, eh al pingverde c'è uno che sta attraversando ah no spara a me questo questo spara a me non ho proiettile, spara a me questo nooo raga, una botta ti prego, ti prego una botta raga nooo bastardo sono due non sapevo che sei adesso oh ecco se riesce ad andare allo shop no, non sono qui se riesce nooo erano due bastardo titan, ne fai ancora una? 29 kill l'abbiamo fatto, ne fai ancora una? si si 29 kill, bravi ragazzi mi è andata di sfiga, mi è andata di sfiga dio cane, non avete visto la partita, come cazzo mi hanno fatto? guarda che tu è coglione, parco dio un po' un po' 12 25 Attrezzatura si entra in azione.